Reassumendo, Talete occupa un posto molto importante nella storia della filosofia, non tanto per le risposte che ha dato ad alcuni quesiti, quanto per le domande stesse che si è voluto porre, guardandosi intorno, sforzandosi di riflettere. Non attribuire all'idea la soluzione di tutti i misteri è stato il primo passo del pensiero occidentale verso l'interpretazione dell'universo. Quarto, Anassimandro. Anassimandro era uno scolare e forse anche un parente di Talete. Per le testimonianze e i frammenti riguardanti Anassimandro, video e ripresa cratici, volume primo, pagina 96-107. Nacque Mileto nel 610 a.C. ed era pertanto più giovane del Maestolo, di una ventina d'anni. Nella storia della civiltà è noto per aver disegnato per primo la carta geografica. Diogeno e Laerzio, vita dei filosofi. Secondo 2 A quei tempi chi si metteva per mare lo faceva con molto coraggio e senza tante precauzioni. Non esistevano busso alle sestanti o portolani. Diciamo pure che ci si accontentava che il tempo fosse buono, almeno al giorno della partenza, e che l'oracolo di Didima avesse dato su nulla osto. Stando così le cose, le carte nautiche di Anassimandro dovette rassemblare ai mercanti dell'epoca il non plus ultra del progresso. Tanto più che il filosofo le aveva inceppate di consigli e di annotazioni sui popoli che si sarebbero incontrati sul cammino. Di Anassimandro si dice che abbia inventato l'ognomore. Favorino di Anna raccolta che Anassimandro disegnava la gora di Sparta un quadrante al centro del quale conficcò un'asta la cui ombra si spostava sul terreno a seconda dell'ora. ovvero l'orologio solare e che abbiamo previsto un terremoto e che abbia previsto un terremoto nella zona di Sparta salvando la vita a molti lacedemoni. Cicerone è la divinazione 1,50 a 112 primo 50 a 112 le notizie sulla sua vita sono alquanto scarse dalla sua abilità di cartografo si deduce che deve aver molto viaggiato così come molto viaggiarono tutti i filosofi presocratici. Senofane affermava di aver girato il mondo per 67 anni e Democrito si vantava di aver visto più popoli e regioni inesplorate di qualsiasi altro uomo del suo tempo. Bukkigart storia della civiltà greca Firenze 1974 Per quanto riguarda la Simandra sembra che da giovanotto abbia fondato una colonia sul Mar Nero chiamata in onore del Dio a Polonia Emeliano storia varia terzo 17 E a questo proposito vorrei chiarire che quando dico colonia non bisogna subito pensare al colonialismo perlomeno nel senso che noi diamo già la parola Qui non si tratta di conquiste militari da parte di una potenza imperiale bensì di semplici trasferimenti di uomini su pallettini in una qualche insennatura disabitata I greci ne fondarono più di 1500 nel senso mediterraneo e portarono le loro abitudini e le loro mentalità fin sulle coste della Francia e della Spagna Pare che una volta un certo collega trascinato dalla tempesta di un certo